Tra poche settimane ripartirà anche il campionato di prima categoria tra le probabili e auspicabili protagoniste anche il Sant'Anna che torna a giocare sul terreno di gioco, che dà anche il nome alla squadra, ma dell'impianto e delle novità di questa stagione ce ne parlerà il vicepresidente Dario Orsini. Quali sono le vostre aspettative? Allora, le aspettative rispetto allo scorso anno abbiamo fatto una rosa ancora più completa, quindi cerchiamo di fare questo salto di qualità. Dove ci si aspetta veramente una grossa mano dalla nostra amministrazione è il campo sportivo. Se riusciamo a ottenere il campo finisce tutto il discorso dello scorso anno, allenamento da una parte, si giocava fuori, quindi è stato un campionato veramente giocato sempre in trasferta. Centrando l'obiettivo del campo io penso che ci sono dei buoni presupposti per avere una stagione di vertice dove dobbiamo ringraziare soprattutto il direttore sportivo che ha completato la rosa con alcuni giocatori nuovi. I presupposti sono buoni, certo la parola definitiva la daremo al campo e ci auguriamo veramente una stagione di vertice. L'amarezza della scorsa stagione è stata ammortizzata immediatamente, c'era il rischio di scoramento, di mancanza di entusiasmo, invece avete ammortizzato bene e siete ripartiti subito. Sì, questo grazie forse alla società veramente nuova, il Presidente non ha mollato, devo dire che ha raddoppiato le forze per fare un campionato ancora più importante dello scorso anno e speriamo che veramente questi sforzi alla fine valgano il salto di qualità. Quali saranno le probabili avversarie quest'anno? Penso da come si dice lo Scafa ha rifatto una bella squadra, mi sa è anche il Giuliano Teatino un buon organico e se non erro l'Orsogna che sarà anche una candidata forse per il salto di promozione. Pietro Ciarrone è riconfermato dalla società del Presidente Cristian Perilli per l'ottimo lavoro che già ha svolto nella seconda parte della passata stagione, quest'anno si è dato un grande affare per rinforzare la squadra, l'obiettivo credo sia perfettamente riuscito. In quali reparti e chi sono le novità del Sant'Anna 2017-2018? I ragazzi che abbiamo tesserato sono dall'attaccante Cristian Cocco, ex rosedana, ha vinto il campionato di prima categoria quest'anno e giocatore di altre categorie negli anni passati, quindi esperienza e tecnica individuale notevole. Poi al centrocampo di Mauro che viene dall'Elicese che è un ex giocatore anche del Chieti, di Marcucci Francesco ex Cepagatti e poi due esterni dal Miglianico di Pompeo e di Muzio Simone che è un 96 e poi in attacco c'è anche Mammarella Alfonso ex Bucchianico che comunque è inutile presentarlo che è abbastanza forte e in difesa poi Mattia Di Sante sempre dall'Elicese e uno dei fratelli di Alessandro Mattia che stava nel Cepagatti e tesserato con il passo cordone che è venuto da noi, quindi sono 7-8, credo di aver dimenticato nessuno come giocatori. Poi c'è il portiere del San Martino sulla Maruccina, un 98, quindi un fuori quota e poi sono rimasti i migliori dell'anno scorso il portiere Muscato, Vespucci, Santarelli Simone, Santarelli Roberto, i vari colecchia di Girolamo, di Alessandro Daniele, di Alessandro Andrè, quindi tre fratelli quest'anno abbiamo con noi e penso di aver detto tutti Vespucci naturalmente, Castro Paolo, Davide, insomma i migliori dell'anno scorso più con questi ragazzi che sono venuti abbiamo cercato di migliorare notevolmente il tasso tecnico e di esperienza rispetto all'anno scorso. Poi vedo che ci sono anche tanti ragazzi pronti ad entrare in prima squadra. Sì, poi ci sono anche altri ragazzi del Juniores che già l'anno scorso facevano parte, venivano in panchina, quindi sono in attesa di migliorarsi anche loro e quando sono pronti entreranno. E quest'anno poi abbiamo una rosa di 20 giocatori che sono tutti titolari in pratica, quest'anno con la nuova regola delle 5 sostituzioni penso che siamo attrezzati bene. E dopo la riconferma del direttore sportivo è arrivata anche quella di mister Solfanelli al quale la società ha rinnovato la propria fiducia e questo è importante per lavorare in tranquillità anche in questa stagione dove si presuppone la squadra possa disputare un campionato all'avanguardia mister, o mi sbaglio? Penso di sì, comunque voglio ribadire che l'anno scorso abbiamo fatto un grosso campionato, dopo purtroppo lo sport si sa per un gol non siamo andati in promozione, però niente ci riproviamo quest'anno, abbiamo confermato una buona parte della squadra e pensiamo di averla migliorata, soprattutto sotto l'aspetto umano, sono ragazzi bravi, dopo si sa che sarà sempre il campo a dire se siamo migliorati o meno. Anche sotto l'aspetto numerico vediamo che questa sera sono tanti calciatori, quindi varie soluzioni per quanto la riguarda. Abbiamo una rosa normale di 20 giocatori dove chiaramente sono tutti allo stesso livello e quindi sarà anche per loro motivo di una sana competizione e quindi cercheranno di allenarsi bene. Vediamo se le opinioni sulle favorite combaciano con quelle che abbiamo sentito in una precedente intervista, per lei quali sono le favorite, escludendo la vostra squadra ovviamente? Per me, ripeto, sarà sempre il campo a dire io non voglio mettere tutti sullo stesso piano, ci sono parecchie squadre buone, dopo ci sono anche qualche incognita che uscirà, io sono sempre dell'idea che sarà il campo a dire chi sarà la squadra migliore.